Musica Mi sento carico doppiamente contro il Gallipoli perché so quanto Emanuele teneva a questa partita però so che Emanuele tiene molto di più alla vittoria di questo campionato e pertanto mi dovrò impegnare affinché ciò avvenga e per regalare anche questo sogno Emanuele che finora per quanto mi riguarda è stato il miglior portiere del girone e penso che su questo nessuno possa essere di diversa idea Sotto l'aspetto del gioco così nessuna squadra ci abbiamo messo sotto penso che il Crotone sia uno dei più bei calci che si vede in C1 in Mega Pro Sono abbastanza ambizioso, io questo non lo nascondo conosco il mister da due anni il suo suono venuto qui era anche perché sapevo che il mister è un vincente e abbiamo tutta la voglia e il desiderio di vincere questo campionato di fare quanto meglio sia possibile Sono venuti i tifosi a parlare, ci ha fatto piacere ci hanno fatto sentire la loro presenza vicino speriamo che domenica vengano in tanti che mi piacerebbe vedere il stadio qui E ha fatto bene, benissimo in casa fuori casa ha sempre fatto delle prestazioni anche un po' al di sotto di ciò che hanno espresso in casa pertanto noi giocheremo anche su questo consapevole del fatto che probabilmente domenica qui all'uscita ci saranno un po' di gente a sostenerci anche questo ci dovrà aiutare a fare meglio degli altri Se il Crotone gioca da Crotone gli renderà la vita molto difficile Grazie 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 Grazie